Vi anticipo che cosa accadrà e che cosa troverete da qui a 20 giorni sui giornali. 14 regioni sono in mano al centro-destra. Tajani è d'accordo con la Meloni. Ieri sera, secondo me, il discorso che ha fatto Giorgetti e le sue perplessità mentre parlava hanno soltanto dimostrato che la Meloni ha dato segni di onnipotenza dove comando io e si fa come dico io, ma gli altri gruppi non sono d'accordo perché tante regioni sono in mano a Salvini. Salvini ha già stretto degli accordi, cioè il suo gruppo ha già stretto degli accordi con le banche per operare e dare una mano alle imprese e questa cosa li sta facendo discutere. In più, tutto il PD, Bonaccini, Conte, Castellani, Gasparri, Gelmini, Toti, sono tutti contrari a ciò che stanno facendo perché si parla di 100.000 aziende, lasciarle in mezzo a una strada, 150.000 dipendenti che andranno dal culo. Ragazzi, io ricevo tutti i giorni telefonate di voi che siete in grosse difficoltà, che siete lì che vi contate il 100 euro per comandare avanti, come mi è capitato a me qualche mese fa. Volete mettermi in croce perché ho dato una mano a Fratelli d'Italia? Va bene, mi prendo le mie responsabilità, ma io non li ho votati, non voto da 22 anni. Siamo scesi a un compromesso perché avevo bisogno di una mano da loro per un'associazione che io ho dove aiuto le famiglie in difficoltà. Aperta e chiusa parentesi. Ma qui il discorso va oltre. Qua si sta parlando di sterminare tutto il sistema edile ed è normale che in questo momento io appoggio tutti gli altri partiti. In più, se c'è un accordo banca e regione, quegli accordi non li butti via così perché il ministro cretino ha deciso che da oggi la situazione va a morire. Non funziona così. Quindi vi garantisco che da qui a 20 giorni tornerà tutta la normalità. E mi è stato detto direttamente da gente che fa, da politici, non dagli amici del bar. E quindi vi garantisco che tornerà tutto a posto. Anche perché veramente succede un disastro. Vuol dire non avere più possibilità di prendere i soldi delle cessioni. Vuol dire togliere liquidità a tutto il sistema e creare grosse difficoltà ai privati che sono lì con i cantieri bloccati e non sanno che cazzo fare. Quindi lo so che io sono nessuno, però le buone notizie ve le ho sempre date. sovente vi ho sempre detto la verità di ciò che sarebbe accaduto in futuro. Quindi buona giornata. Io vado a lavorare che oggi ho da chiudere una grossa operazione. Spero di portarla a casa. Ciao!